Saranno ripianati in 30 anni 10 milioni di euro di debito nei confronti del lato. Si chiude così una lunga partita. Lo ha deciso l'Aggiunta Gambino attraverso il decreto di rilancio e la possibilità di accedere ad un fondo per dare liquidità ai comuni nel post-Covid. L'amministrazione comunale vuole chiudere tutte le situazioni debitorie che si sono accumulate durante gli anni nei confronti del lato ambiente CL1. Il debito sarà ripianato appunto in 30 anni. Le somme saranno così restituite con l'1,22% di interessi.